Grazie a tutti. Più che su probabilità, però premento che mi ha colpito in ciò che ho ascoltato, prima nella tematizzazione, quali temi avete scegliato, e poi nelle risposte che sono state date, anche se il giudizio è sommario perché l'ho appena ascoltato, e comunque mi ha colpito, devo dire molto positivamente, il fatto che voi avete parlato di questioni reali perché sono tempo per la vostra vita di studenti. Ci sono tante altre fasi precedenti a voi, quindi voi non avete conosciuto, della partecipazione studentese, abbiamo a mio occhio esagerato nel dare risposte solo politiche a questi problemi, si sono entusiasmati per problemi anche esterni alla scuola. Mentre voi vi siete calanti dentro questa vostra esperienza di vita che si consuma dentro la scuola. E questo io considero un fatto importante, anche perché io personalmente, nella riflessione che sto facendo, io incontro questa esigenza. Grazie. 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 Grazie.